Oroscopo del giorno. Venerdì, 8 dicembre 2023. Ariete. Amore. Ci saranno tante emozioni da vivere durante questa giornata. Il ponte dell'Immacolata inizierà alla grande sul fronte sentimentale. La passione potrebbe scoppiare anche per chi è ancora single. Lavoro. Un venerdì in cui se lavorerete, dovrete concentrarvi al massimo e non farvi distrarre da niente e nessuno. Toro. Amore. Tutto proseguirà in maniera abbastanza stabile in amore. Certo è che nei rapporti sarà importante essere ottimisti, al fine di progettare un futuro in coppia. Lavoro. Un discorso simile bisognerà farlo per il lavoro. Se state pensando ad un progetto, curatelo fin dalla base. Gemelli. Amore. Che siate impegnati sentimentalmente oppure no, questo sarà un venerdì pieno di emozioni. Se saranno belle o brutte lo deciderete voi stessi, in base a cosa farete con la persona vicina. Lavoro. Impegnatevi fin dal principio, soprattutto se state pensando ad un qualcosa di nuovo. Cancro. Amore. I problemi lavorativi potrebbero ripercuotersi sulla vostra relazione d'amore. Dovreste cercare di controllare le emozioni, ma soprattutto i vari nervosismi, che potrebbero portare a delle conseguenze molto negative per i rapporti. Lavoro. E' qui che ci saranno gli intoppi più grossi. Cercate di mantenere la calma, per poter gestire tutto al meglio. Leone. Amore. Se con il vostro partner qualcosa non sta andando bene, è il caso di mettere in chiaro i vostri pensieri e le vostre esigenze. Così da ritrovare l'equilibrio di coppia. Lavoro. Bisognerà impegnarsi, ma non sacrificarsi. Anche perché oggi si festeggia l'immacolata, e per molti inizierà un periodo di ponte dal lavoro. Vergine. Amore. Il vostro cuore vi parlerà chiaro, e dovrete ascoltarlo. Lavoro. Durante questo venerdì del mese le emozioni non mancheranno, e voi potrete godervele appieno. Lavoro. Non abbiate timore di fare un passo in più sul posto di lavoro, potrebbe servirvi. Bilancia. Amore. Potrebbero esserci alcune incertezze sentimentali in campo. Forse dovreste riflettere un po', e magari parlare con il vostro partner per fare chiarezza, ed ottenere risposte ai vostri dubbi sulla storia. Lavoro. Non sarà semplice riuscire ad ottenere dei buoni risultati, ma se ci riuscirete, le soddisfazioni saranno massime. Scorpione. Amore. Il partner, o una persona vicina, potrebbero avere un ruolo davvero fondamentale durante questo venerdì. Il suo aiuto potrebbe davvero sostenervi su ogni fronte, anche quello sentimentale ovviamente. Lavoro. Ci saranno opportunità interessanti, e le stelle vi doneranno anche una fantastica determinazione da poter impiegare. Sagittario. Amore. L'equilibrio in coppia sarà essenziale, e dovreste averne di più, per far funzionare tutto al meglio con il partner. Sarà un venerdì in cui tanti di voi, si ritroveranno ad avere molti pensieri per la testa. Lavoro. Dovrete liberarvi di tutta questa ansia, e delle tante preoccupazioni. Lavorate agli impegni con una maggiore serenità. Capricorno. Amore. Vi sentirete bene oggi, e questo umore così positivo si noterà facilmente anche nel rapporto di coppia, o in una conoscenza nuova nel caso dei single. Lavoro. Lo spirito di ottimismo sarà sicuramente molto forte anche sul posto di lavoro. Meglio approfittarne. Acquario. Amore. Se avete un partner al vostro fianco, forse dovreste fidarvi un po' di più del sentimento vero che vi unisce. Cercate di godervi di più ogni cosa, compresa una nuova conoscenza se siete single. Lavoro. Un bellissimo venerdì per il lavoro. Ci saranno tanti bei risultati. Pesci. Amore. L'affetto e il sostegno del partner, o di una persona particolarmente vicina, vi serviranno su ogni fronte. Non solo in amore. Lavoro. La giornata lavorativa sarà tranquilla. Se sarete liberi per il ponte, potrete già iniziare ad organizzare qualcosa per la prossima settimana. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale, e condividi sui tuoi social preferiti. Grazie.